Dai, là c'è il leone che sta dormendo Un leone sta dormendo Vabbè, un leopardo Un leopardo sta dormendo Ok Un leopardo sta Muori! Dai, aiuto! Ciao ragazzi Oggi sono qui con il nostro amico Pixel Ciao Pixel Ciao E siamo su un nuovo gioco, ragazzi Che non esiterai a definire il successore di Minecraft Anche se è un gioco abbastanza sconosciuto Si chiama Highlands E ragazzi, io ci ho giocato due o tre ore forse Ma devo dire che... Ottore Ottore? Ci abbiamo giocato veramente ottore? Sì Ragazzi, è una figata pazzesca La grafica è low poly, come potete vedere Quindi vabbè, non è niente di entusiasmante Però devo dire che lo stile molto colorato, molto carino Secondo me si addice Naufrago Rowan, sesso femmina, perfetto Lo chiamiamo mondo peso Mondo peso Ok ragazzi, eccoci qua nel nostro mondo Ma la primissima cosa che vi voglio far vedere È la facilità con cui potrete giocare con i vostri amici Guardate che figata Andiamo su multigiocatore Mettiamo una bella password al nostro server Che è la nostra password super anti-sgamo Stavolta sarà ciao E l'andiamo a pubblicare Ok ragazzi, il nostro server è già online Quindi il nostro pixel può già aggiornare la nostra partita Basta, non ho dovuto fare assolutamente nulla Il pixel finalmente arriva... No, ma ti fatti metterci anche tu? Ma dai, ma si metterla Qui già possiamo vedere un'altra particolarità di questo gioco Si può scavare Questa è una vena mineraria Ora cerchiamo di fare uno strumento e di prenderla Vediamo, vediamo Se non sbaglio quella è argilla Quindi andiamo nel menu di fabbricazione Eccolo qui Ci serve una pietra e una corda Quindi corda, la craftiamo subito Il crafting è veramente facile Ragazzi, io vi dico che questo è il primo gioco dove veramente non ho letto niente Non ho letto un tutorial Non ho letto proprio tutto super super easy Cioè i craft sono questi Voi imparate a farli e li fate I craft che ora vedete sono molto pochi ragazzi Ma tenete presente che si sbloccano via via Che otteniamo nuovi oggetti E sono davvero davvero tanti Cioè addirittura pensate arriviamo a volare Arriviamo alle macchine Macchine proprio Cioè a costruirci la macchina Barche giganti Sì è una figata ragazzi Poi vi dico io ovviamente Oh, ci ho giocato poco Quindi non prendete quello che vi dico però l'ho colato Però devo dire che per ora Veramente lo trovo Veramente veramente figo Ok ci sono il menu in basso Ma a chi piaceva del crafting Non è noioso? Assolutamente sì C'è il menu in basso come su Minecraft Noi andiamo adesso praticamente a minare Se vedete c'è un leggero puntatorino verde Che mi indica dove di preciso stanno andando a minare E niente così si scapa Andiamo avanti Finché non abbiamo Ok poi già c'è un po' di argilla Va bene niente Quindi questa è la nostra argilla Che ci servirà per craftare subito Vari oggetti Ragazzi è un gioco molto basato sull'esplorazione Quindi soprattutto all'inizio Diciamo dovete esplorare bene Tutte le zone Poi si fanno le barchette Si va Insomma barchette I barconi Si va in mezzo al mare Per giorni e giorni Sì sì Perché non è facile trovare l'isola Se dovessi definirla La considererai Questo gioco Una via di mezzo Tra Don't starve Minecraft E Ark Assolutamente Ci sono anche bestie Cattive Forse un po' meno Ragazzi Penso che Allora diciamo che il gioco è ancora un'alpha Tanto per cominciare E forse L'aspetto più Un'alpha o una beta Non mi ricordo sinceramente L'aspetto su cui secondo me Devono lavorare un pochino di più Sono i mob Ce ne sono forse un pochino pochi Anche se quelli che ci sono Sono abbastanza cattivi In effetti Ok questa è una costruzione Ragazzi Questa è una costruzione Guardate che figata Sono dei frammenti di vetro Prendiamoli Frammenti di vetro O delle rovine Queste sono delle rovine Praticamente se vogliamo Possiamo o ricostruirle O Insomma Sciacallarle E prenderci la roba Guardate che figata ragazzi Ci sono i quadri Cioè guardate che meraviglia I quadri si possono prendere? Non lo so Da quella casa Sì certo Perché non si dovrà Quindi ci sono dei cavalli Qui mostrali Quadri di natura morta Ok ragazzi Questo video sarà molto al cazzeggio A farvi vedere la roba Ve lo dico perché Guardate che figata Guardate che figata I cavallucci Cavallucci che sono selvatici Uh posso dargli da mangiare Aspetta non l'ho mai fatto Alimenta Ma ti segui Ti immagini Beh sicuramente Penso che dopo un po' Che gli dai da mangiare O ci sono le patate Ok allora Abbiamo fame Quindi mangiamo Ragazzi Io non ho ancora capito bene Come funziona il cibo In questo gioco Cioè Che cosa serve Diciamo che io di solito Mangio quando vedo il cosciotto Più o meno Quando me lo ricordo C'è un cosciottone Là in alto E ti appare il messaggio Sotto in chat Con scritto Non hai più fame Ho fame Non ho più fame A parte questo Uh ragazzi Là c'è un giaguaro Non so se l'avete visto Là è cattivo È incazione Io lo visserei qua La zona Sì 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 No 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 Saliamo sulla montagna E gli facciamo vedere Come è l'isola Sì pixel di nuovo Che saliamo sulla montagna Lo sai come succede Tutte le volte Che sali sulla montagna Dettagli Ok ragazzi Allora Diciamo che Per voi lo facciamo Per voi lo facciamo Dai ragazzi Per voi lo facciamo Mi piace Bravo pixel Proprio Leccata di quelle Paurose Per voi ragazzi Questi altro Perché noi vi amiamo Mettete like adesso Adesso abbiamo detto Che vi amiamo Se non mettete like Siete delle brutte persone Sappiatelo Ok Ci sono le uove Uh che belle le uove Nido di oceali Ok ragazzi Sicuramente avete già notato Uno dei grossi Grossissimi problemi Di questo gioco Secondo me Il più grosso Sono i cali di fps A volte veramente si scatta E non è perché sto registrando Ma è perché Proprio il gioco È Un po' scattoso Un po' scattoso Però ragazzi Dai Ci sta Comunque lo stanno aggiornando Tutte le settimane Quindi Ok Questa è la nostra isola Molto grande Guarda Ora là c'è qualcosa Là c'è una costruzione Vedi là in fondo Là Sembra una torre Sì vabbè Quella torre La solita torre E c'è anche qualcosa in aria Ragazzi Là in fondo Direi andiamo a vedere la torre E poi decidiamo Intanto mi sembra che di là Ci siano tutti gli alberi Mi sembra la zona più Dai scendiamo Sì Ora ci dico Scendiamo lungo il crinale Mamma mia Non so se sentite ragazzi Tutto il vento che c'è Cioè andando là in alto Ci è sentito tutto il vento E questa penso che sia Una delle ultime cose Che stanno aggiornando Molto figo Per dare modo Al mondo di caricare Allora Diciamo che il gioco È molto carino Ovviamente è un gioco Ancora secondo me Molto acerbo Quindi ancora molto da Da sistemare Però ragazzi Sicuramente Anche a livello di crafting Proprio di costruzione Ragazzi Veramente Veramente una figata Ci sono una marea di Di oggettini Oggettoni da craftare Veramente Veramente belli E figurati quando Lo finiranno Quanti ce ne saranno Mamma mia Sei scesa a balla Allora ragazzi Un'altra caratteristica Di questo gioco È che ci sono Dei dungeon bellissimi Fantastici Io non ci sono ancora entrata Perché c'ho una paura Spaziale E le caverne sono assurde E ci sono questi cazzilli Che io non ho capito Che cosa sono Però ogni tanto Cioè vedete Ci sono delle lettere Dei cuoricini Delle cose strane E secondo me Sono tipo puzzle Cosa del genere Boh Chissà cosa servono Ok ragazzi Iniziamo a costruire La nostra base Direi Sì Iniziamo a raccattare Molto fondamentalmente Tutto quello che c'è in giro Iniziamo a fare i primi tools Fa vedere quanto è figo Tagliare gli alberi Aspetta Prima devo farlo Allora Fabbricazione Ragazzi Ok come vedete Già mi si sono sbloccati Diversi oggetti Che prima non erano disponibili Quindi Fabbrichiamo Un'ascia di pietra Mi serve la corda Craftiamo prima la corda E poi craftiamo La nostra ascia di pietra Andiamo nell'inventario Spostiamo l'oggetto Nell'inventario Veloce Eccoci qua Che fatica Il inventario è fighissimo Non è come minecraft Qua è una figata assurda Che fatica Fantastico Guardate quanta legna Che abbiamo trovato Ok scusate Se ogni tanto Appare qualche messaggio Strano in chat Ma il problema È che non ho più La mia tastiera Sto giocando Con una tastiera Che fa veramente anguscia E quindi Niente È ancora la tastiera Del tuo ragazzo No no Questa non è la tastiera Del mio ragazzo È la tastiera Che il mio ragazzo Usa quando devi sistemare Un computer Per cui Che fa un schifo Cioè tipo Non c'è manco Il tastino numerico È 10 cm Di tastiera Ciao Fantastico Ok Allora ragazzi Eccoci qua Abbiamo preso La nostra legna E ecco Una cosa che Non mi è piaciuta Tantissimo Di questo gioco È che veramente Per fare una costruzione Ci vuole Una valanga di legna Voi fate conto Se ora voglio fare Un muro di legna Quello che devo fare È mettere Il pezzettino Di legna così Cioè io devo costruire Il mia casa A pezzettino Per pezzettino Cioè Figuratevi a fare così Tempo che arrivo A fare una casa Cioè divento pazza Però c'è una cosa Invece molto carina Ragazzi Guardate che figata Che per due minuti Da quando ho piazzato Il mio blocco Posso riprenderlo In mano Guardate Tasto destro Lo riprendo E quindi se ho sbagliato A posizionarlo Posso rimetterlo Un'altra cosa Molto 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 carina Ve la faccio vedere subito È guardate Dopo che ho piazzato Un blocco C'è un grid Che mi aiuta A una griglia Che mi aiuta A posizionarlo In maniera corretta Quindi io ho posizionato Il primo Ora voglio posizionare Subito a fianco Il secondo Guardate Tac E in automatico Non devo più fare niente Il gioco mi va Guardate che figata A posizionare I blocchi successivi In linea retta Rispetto ai due blocchi Che ho già piazzato E questo veramente Oppure si può premere V E si entra In modalità Automatica Cioè in modalità Manuale Assolutamente Sì ragazzi Ora vi faccio vedere Anche questa Premo V E guardate Posso posizionarlo Dove voglio Posso premere KLJ Per spostare Tac Questo è un po' Come era in Ark Survival Però devo dire Che rispetto ad Ark Questo è veramente Molto più semplice Cioè Veramente Molto molto Più semplice Da piazzare Perché appunto C'è l'allineamento Automatico Suggerito Sì L'unica cosa Secondo me Ci serve un muro Cioè ragazzi Non posso farmi Il muro così Io so Sicuramente ci sarà In dieci minuti Faccio il castello Qui se voglio Fare il castello Devo Tipo Vendere un rene Fallo grande Lo faccio io dai Sì tu fai il fallo grande Io faccio il fuochino Per la notte dai Eh sì no Fuochino da campo Spento ragazzi E piassiamo Campo Di fuoco di campo Tac Ci serve ragazzi Quello Per accenderlo L'acciarino Quindi andiamo a craftare L'acciarino Che si fa Vediamo se indovinate Con la flint Ovviamente Quindi andiamo a cercare La flint La flint ragazzi Sono delle pietroline Bianche per terra E sono molto Molto difficili Da trovare O nel frattempo Qua c'è una vena Tipo di Penso sia di Di copper Di rame Allora Per questa notte L'ho fatto Quello grande Terra Terra Acco rame E pixel Sai secondo me Che cosa serve Il rame Cosa serve Ti potrei dire Una cavolata Per fare i congegni Elettrici Mamma Lo penso Anch'io Vedremo È una figata No Ok ragazzi Quello è il lupo Che dorme Non va disturbato Quindi noi adesso andiamo Eccola qua Una flint Fantastica Ce ne serve Ancora solo una Un'altra pietra focaio Possiamo farci A ste Ste cose qui Invece sono Dei fiori magici Perché in questo gioco C'è anche la magia Non ho capito bene come Accomeremo Un giorno Capiremo Qua c'è un'altra bestia Bruta e cattiva No Mi vogliono uccidere Stanno spuntando Tutte le bestie Brute e cattive Non te lo vorrei dire Eccola qua Un'altra flint Ok quindi ragazzi Questo vuol dire Che ci dobbiamo Subito subito Attrezzare Contro le bestie cattive Esatto Ora Visto che abbiamo La flint Facciamo innanzitutto L'accendina è molto Importante In questo gioco Perché accendi tutto Praticamente Macchine Cose Sì ogni cosa Che c'è ad accendere Ovviamente la devi accendere Quindi L'unica cosa che non c'è È l'esperienza È già È una cosa che mi dispiace Eccolo qua ragazzi Accendiamo il fuoco E proprio come in arc Possiamo buttarci dentro Roba Per cuocerla Ok io adesso Ho messo le mie Banane a cuocere E tra un minuto Praticamente Questo fuoco Ha nove slot Quindi tra un minuto Potremmo ritirare Tutta la roba Che è stata cotta Possiamo cuocere Nove cose per volta Cioè guardate ragazzi Già quante cose Che abbiamo Guardate quanti vasi Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Cioè una valanga Di vasi Guardate che figata La borsa per l'erba Che vi tiene L'inventario dell'erba L'ananas Le fette di ananas Cioè guardate E questo ragazzi Non è niente Cioè tra mezz'ora Di gioco Avrò Una valanga Di oggetti Sì sì È proprio una valanga Perché ogni volta Che voi craftate un oggetto Magari me ne sbocca Altri due o tre Sì è veramente una figata Ok io ho la mia asta E vado Alla caccia del Dai andiamo pixel Tu sei Andiamo Sei attrezzato A distanza A distanza Bravo Hai l'arco O a distanza guardi A distanza guardi Se hai problemi Ti tiro qualche freccia Ah fantastico Dai Là c'è il leone Che sta dormendo Un leone sta dormendo Vabbè un leopardo Un leopardo sta dormendo Ok Un leopardo sta Muori Dai aiuto Come si muta Mi sto ammazzando No Ma ammazza Aiuto No Mi ha ammazzato Che bella Brava Che figuraccia Va bene Bene No ragazzi Tutto questo era voluto Perché vi volevo far vedere Quando morite Sì no Cioè voi pensavate davvero Che io sarei Secondo me l'arma Che avevo craftato Stavolta Non era proprio La stessa Dell'altra volta Perché l'altra volta Con tre colpi Andava giù Vabbè Comunque Tutto questo Era assolutamente voluto Per farvi vedere Che io posso Rigiocare un altro personaggio Stavate mi faccio i capelli Verdi Gioco un nuovo naufrago Che ovviamente Mi ciccerà dall'altra parte Dell'isola Perché no Eh sì E posso praticamente Andarmi a riprendere Il mio inventario Quindi io ho il testamento Guardate Ti accende il falò Così Quello grande Così magari riesce a vedere Chiunque lo ritroverai Io ero così come te Ero un naufrago E le prese con la sopravvivenza Su quest'isola Ho fallito In maniera piuttosto evidente Ma posso ancora aiutarti A fare di meglio Evitare gli errori Che ho commesso Insomma tutto il pippone Per dirci che Abbiamo reeditato La sua roba Quindi ora Possiamo andare a trovare La nostra Ti ho acceso il grande fuoco Quindi Zia Rui Nonna Rui No ragazzi Tra l'altro in questo gioco La notte è veramente brutta Cioè Veramente Veramente brutta Nel buio No Ti assicuro Che non vedi un tubo A distanza Quando guarderai il video Vedrai che non si vede un tubo Ora vado anche nel buio E voglio vedere Se si vede Si si vede Non si vede Ma si vede tantissimo Sono perso nel buio Aiuto Come faccio In inventario Vediamo se c'è qualche segnale Si lo vedo Lo vedo Sto arrivando Ci sono Arrivo Sono viva Ah che bello Pixel il tuo fuoco Non ho mai visto Niente di così bello Come il tuo fuoco Ti giuro Ecco come sopravvivere Eccomi Guarda ragazzi No che bello Il fuoco di Pixel Grande Pixel Per una volta La tua megalomania E la tua passione Per essere un piromani Mi ha Mi è stata molto d'aiuto Non ci sarei mai arrivata Bene ragazzi Qui c'è una bellissima Lettino di Di vimini Dove andare a dormire Dai ci distendiamo E proprio come su Minecraft Facciamo passare la notte Velocemente Ok ragazzi Andiamo a recuperare La mia Povera roba Sperando che non sia Già desuonata tutta No è lì Eccola E la mia tomba Povera Rui Guarda che sta arrivando Il cosa Che cosa No io voglio la mia roba Voglio la mia roba No stiamo Sbrigati Uno si è messo a dormire L'altro Però Non mi interessa Devo prenderla Sta di spalle Ok ho preso tutto Scappiamo Via 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 Ah ci siamo dimenticati Di dirvi ragazzi Che questa non è L'unica isola Ci sono anche altre isole Nella mappa Solo che sono molto lontane E per esplorarle Dovremmo crastare una barca Molto più in là Questo Molto più in là Bene E niente Con questa bellissima Visuale di squali Nel mare Io vi saluto Mi raccomando ragazzi Sono molto curiosa Di sapere che cosa Ne pensate di questo gioco Anche voi Insomma vi state appassionando Spero di sì Allora io devo dirvi Che in realtà Le recensioni Le recensioni che ho letto Erano abbastanza negative Non ho capito Francamente perché Perché io l'ho trovato Veramente veramente carino Forse perché In single player Penso sia abbastanza Noioso Vabbè l'unica pecca Anche di questi scatti Eh sì Un po' di Cioè probabilmente Magari da qualcuno Che non ha proprio un pc Tupissimo Ecco Comunque Fatemi sapere ragazzi Cosa ne pensate Qua sotto Nei commenti E ci vediamo Al prossimo video Da Rowan è tutto Ciao pixel Ciao Ciao